La sesta grande di Sottomagabate è un evento per Mizzabianco che arriva soprattutto dopo un brutto periodo di sicurezza per tutta l'unità ma anche per il nostro comune. Assolutamente vuole essere un momento di ripresa, di ripartenza di comunità, un momento per cui vale la pena assolutamente riavere il piacere di scendere per le strade, di abbracciarsi, di riparlare e condividere momenti di fratellanza. La festa rappresenta identità, rappresenta storia, rappresenta tradizione, rappresenta cultura, rappresenta quei valori che devono contraddistinguere Mister Bianco. Mister Bianco ha la possibilità attraverso anche questo momento solenne di rimettersi in verticale dopo momenti difficili, dopo la pandemia, dopo lo sceglimento per mafia, dopo tante vicende che hanno affitto anche la nostra comunità, oggi più che mai occorre ancora più stare insieme e guardare con prospettiva questa festa che è assolutamente un bel momento di ripresa di questa meravigliosa cittadina. E cosa sta facendo la Mizzazione Comunale? Il comune dà tutto il supporto logistico, dà tutto il supporto del personale che oggi ha in dotazione, è in sigua ma comunque è presente. Sul piano di sicurezza stiamo lavorando in forte sinergia proprio perché oggi più che mai occorre essere precisi in alcuni momenti che vengono scanditi proprio dalle aggregazioni derivanti alla festa, stiamo lavorando in certa sinergia appunto con gli ingegneri che hanno predisposto il piano, tra qualche giorno ci vedremo proprio al comune per rastabilire alcuni procedimenti, alcuni anche atti che sono necessari per garantire il corretto svolgimento della festa, quindi viva Sant'Antonio, viva Mister Bianco, viva questo bel momento. Grazie a tutti.